Abbiamo un tutorial su come si tirano i rigori? Come lo puoi? Secondo me non ce lo puoi fare Guarda improvvisato! Dai! Tutti due assist di tacco Tutti due assist di tacco comunque Prima goal c'è quello che vuoi C'è comunque sbagli un rigore e prendi due E' sempre un bapesto C'è non è un assist C'è Ha liberato Griezmann che poi ha concluso E' stato bravo che anziché Egui stassi Aspetta aspetta che non ti stanno neanche Aspetta aspetta stiamo rivedendo il gol Allora aspetta c'è il tutorial Spieghiamo alla gente Cos'è che sta succedendo? Vabbè Bigio stai prendendo un sacco di balla Stiamo cercando una palla C'era Una palla di carta No quella era Orchite di uno dei tecnici Non ti confondere Non possiamo usare di Socillo Che è rotondo Hai visto la faccia di Deschamps Come ha cambiato colore Incredibile Tra i nostri profs Ma è incredibile Cioè se ci pensi da che minuto ha sbagliato Questa è la palla Beh è tutto in scala diciamo C'è certo C'è certo C'è certo C'è certo Socillo la palla Il problema è che non si alza più Chiamate la sicurezza per di Socillo Non si riesce Non si riesce Lascialo così Lascialo così No perché per Malone Vuole arrivarsi da solo Ma cos'è? Guadaggia Lucita con dignità Bravo 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 Grazie.